Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini questo nuovo video vi spiego come aumentare gli fps su fortnite quindi nel capitolo 5 della stagione 3 su fortnite quindi in questo caso se ti ritrovi con questa modalità di proprio lag di problemi di lag anche quando stai combattendo e muori anche perché questi problemi di strap e poi crash anche fortnite è possibile diminuire di parecchio il lag e aumentare gli fps però qua costerà la grafica quindi dobbiamo anche ritornare anche la grafica in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così il pacchetto nvidia profile inspector eccolo qua nvidia profile inspector è all'interno di un pacchetto rar quindi eccolo qua il programma che si trova all'interno di un pacchetto rar quindi devi estrarlo con winrar oppure entra direttamente nel pacchetto rar e trascinalo sul desktop questo è il programma non devi neanche installarlo perchè è già preinstallato quindi quello che ci resta da fare è andare a scrivere qua sopra fortnite questo è il primo metodo per aumentare gli fps e poi ci saranno altri metodi attraverso epic games e il gioco quindi vai su fortnite scendi fino a giù fino a trovare così l'anti aliasing transparence multisampling questo qua metti disabilitato come parte successiva qua sotto metti quello che finisce per q default questo qua e come ultimo passaggio per questo qua invece 0 per fino a finire con 8 doppia mod replay questa qua è la modalità se non la tieni puoi mettere sempre il 30 quindi io metto l'otto una volta fatto scendi fino a giù fino a trovare l'anisotropico quindi filtro anisotropico per l'ottimizzazione metti off e riguardo al filtraggio della texture metti più 0.5000 basta che ci clicchi sopra e imposti il parametro puoi sempre testare così la grafica grazie al programma nvidia profile inspector se non ti piace il filtraggio della texture di 5000 puoi sempre mettere quello più di 2.8750 riducendo sempre di più la grafica texture filtraggio della qualità high performance quindi al posto della qualità metti performance high performance una volta fatto applichi così i cambiamenti su fortnite una volta fatto puoi sempre poi tieni l'aperto quindi questo programma tieni l'aperto andiamo su epic games andiamo nella libreria di epic games andiamo sui tre puntini e vai su gestisci opzioni di avvio metti trattino directx9 oppure lo puoi avviare come directx10 dipende da come ti trovi io lo tengo su directx3d 9 quindi directx9 chiudo qua e adesso vado direttamente su fortnite andiamo direttamente nelle impostazioni quindi vai direttamente su video scendi fino a giù ovviamente questa è la risoluzione 1600x900 perché lo tengo così a finestra quindi lascia stare così la risoluzione la risoluzione la metti la 1920x1080 risoluzione HD v-sync metti no limite frame rate metti il limitato modalità di rendering metti da directx11 scendiamo fino a giù fino a togliere il motion blue che sarebbe la sfocatura anche in movimento che non ci serve preimpostazioni di qualità mettiamo un attimo ridotto anti-lasing e super risoluzione metti su t doppia a super risoluzione temporale metti prestazioni risoluzione 3d tenilo a 50 ombre togli le ombre che non servono a niente illuminazione globale riflessi distanza visuale metti medio texture ridotto effetti ridotto post-processing medio mostra fps sì indicatore di latenza grafica avanzata il debugging di crash scelta video metti sì nvidia reflex in basso latenza on più boost attivato anche per il rapporto statistica di prestazioni e fai applica ed ecco a voi la grafica su fortnite e gli fps che arrivano sopra ai 200 fps io avendo una 1660 super un processore ryzen 5 3600 32 gb di ram aggiungo sempre i driver per migliorare le prestazioni anche sul mio sistema operativo windows 11 e non ho problemi di lag ed ecco qua gli fps su fortnite quindi tu potresti sempre di più aumentare i fps sempre grazie al programma nvidia profile inspector testando un po' la grafica sul gioco e vedere quali sono i migliori parametri per nvidia profile inspector quindi su anti aliasing transparent super simply questo qua io ho messo 8 doppia mod replay perchè questo è quello consigliato però tu potresti anche mettere quello 100 ok diminuirà così il lag aumentando gli fps sul gioco se questo video ti è stato udrissimo iscriviti lascia like per altri problemi voi sempre guardare gli altri video riguardo al crash su fortnite fortnite che non si avvia problemi directx e problemi riguardo a chi non ha il permesso ad accedere alla cartella di fortnite tutto in descrizione o in alto nelle schede quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao